Oh, a liberato dalla morte, eccoci, eccoci, signori, eccoci, 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 eccoci Si confia in me la tua voce, ammè. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ammè. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ammè. Venite a Gesù, ascoltate la Sua parola, aderite ai sacramenti e anche voi sarete felici, perché non c'è la strada di essere felici senza Gesù e senza la Madonna. E poi quello che ho detto all'inizio, è la Madonna che schiaccia la testa del serpente, del demonio. E quindi anche questo gesto che abbiamo fatto di benedire voi in mezzo alla Madonna, è bellissimo, perché noi abbiamo bisogno di essere protetti. Consacrazione della nostra parocchia di San Nicola di Bari al cuore immacolato di Maria. O Maria, Vergine e Madre di Misericordia, Regina del Cielo e Rifugio dei Peccatori, noi, il paroco, insieme ai bambini di prime comunioni, interamente ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita, cari bambini, anche la vostra vita, il vostro futuro. Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, i nostri genitori, mamma, papà, fratello, sorella, nonni, tutto ciò che siamo... E la speranza accoglia l'amore, tutto ciò che è un'aria, tu sai quello che vuoi. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Glorio al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione del nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Doci oggi il nostro pane quotidiano e rinietti a noi i nostri debiti. E anche noi riniettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tua impazzione, ma riniti al mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, ave Maria, ave, ave Maria. Un, due, tre, evviva Maria! Su, vola, 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 che bello, guarda, fatto cuore. Ciao! Ciao! Sono... Speriamo che vuole. Santa Maria del bambino, sempre insieme al tuo, insieme. Tomate in mezzo, vieni Maria... Vieni Maria, qua, ci siamo volati questa montiera! Speriamo in chiesa! Tomate in mezzo, insieme al tuo... Vieni Maria... Portiamo in chiesa! Evviva!